Oggi per impegni presi precedentemente non è presente, lo sostituisco, ho voluto mettere per iscritto un vice sindaco sempre importante. Egregio signor Janot River, voglio farle i più sinceri complimenti per l'eccezionale vitalità ed energia che dimostra quotidianamente la sua impresa. Sono certo che il suo messaggio di pace ed amore anche per la natura potrà attecchire nei cuori dei ragazzini che incontra sul suo percorso, contribuendo a rendere migliore il mondo di domani. Con viva ammirazione Bartolo Cidriano. Sindaco? Grazie. Ma posso dire onestamente che sono cinque mesi in Sicilia, ho incontrato tutte le province e centinaia di sindaci. Questo primo sindaco e prima comune che mi ha regalato una maglia che usa per tutto il territorio italiano nazionale e anche quella della Tenga per fare vedere altri sindaci. Così. Grazie. Grazie. Grazie.